eleganti sinuose nei movimenti affascinanti nei loro molteplici colori sono le meduse che in mare sembrano danzare nel loro lento moto in questi giorni non è difficile per chi abitualmente passeggia sul bagnasciuga del nostro litorale imbattersi in grosse meduse spiaggiate di diversa fattezza e colore come numerose foto inviatici dai nostri report di strada dimostrano sono di diversa fattura diametro e colore ed indubbiamente destano subito la curiosità dei bagnanti soprattutto dei più piccoli che sono attirati da questo incontro ravvicinato con queste affascinanti creature del mare affascinanti ma anche temute perché se l'incontro avviene in mare ed inevitabilmente dovessimo toccare i loro filamenti l'incontro assume un carattere meno piacevole ma perché questo spiaggiamento in questo periodo è così frequente e che cosa spinge così questi molluschi così vicini arriva lo abbiamo chiesto al biologo marino in questo periodo cosa succede dove lo fanno lo fanno in genere nelle acque a largo lontano dalle coste perché loro sono degli animali che stanno nella massa d'acqua e si espostano verticalmente su e giù e sono trasportati dalle correnti quando siamo in genere sul fine agosto settembre qualche volta anche in ottobre ci sono delle correnti che le portano più verso la costa che sono quando noi diciamo che tira lo scirocchetto la sera ecco quello le porta più vicino quindi questi animali che stanno fuori normalmente vengono portati più vicino poi bisogna vedere quale parte del meduso uno ha toccato se uno tocca il mantello dalla parte sopra quindi dalla parte che non usa per acchiappare niente quindi non ci sono tentacoli non ci sono veleni eccetera se uno lo prende dalla parte sotto dove ci sono le strutture dove c'è la sua bocca tutto quanto evidentemente uno si fa va proprio a sfugugliare dentro dove ci può essere e quindi c'è qualche possibilità che ci abbia delle conseguenze conseguenze non è che si muore almeno le meduse che sono da noi nel Mediterraneo non succede ma però ci sono delle conseguenze che uno ha un'infiammazione un'irritazione danno fastidio ecco non è piacevole averlo se le troviamo in spiaggia spiaggiate toccarle può creare qualche problema oppure è meglio che lasciamo stare così in genere è meglio lasciarle stare perché se uno non lo sa o non sa come toccarlo perché in genere se uno la prende dalla parte sopra diciamo dove c'è proprio la parte tonda della medusa eccetera non gli succede quasi mai niente però se uno per sbaglio quella lì ci aveva messo un tentacolo che l'aveva uno dei filamenti che stava sopra ed ero di una specie che può avere questo tipo di attacco gli da fastidio lo stesso perché funziona anche quando è morta funziona anche quando è morta